Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick-Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa nuova puntata iniziamo a parlare dei campionati del mondo di calcio del 2026, ovvero United 2026, il primo mondiale di calcio che si svolgerà addirittura in tre paesi, gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, un mondiale che vede la sua formula completamente rivoluzionata, infatti si passa dalle 32 squadre dell'ultimo mondiale addirittura a 48, quindi formula allargata che prevede quindi una fase a gironi composta da 12 gruppi da tre squadre che qualificheranno le migliori 32 ai sedicesimi di finale, in pratica una squadra che arriva in finale e giocherà comunque sette partite come fino all'edizione precedente. Le qualificazioni a questo mondiale sono già iniziate in alcuni continenti, andiamo a cominciare dal continente sudamericano, un unico girone con tutte le dieci rappresentative del Sud America, ovvero Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela, un girone composto ovviamente da dieci squadre ma sei addirittura si qualificheranno al mondiale, più la settima che accederà agli spareggi intercontinentali, una formula che in realtà ha fatto un po' storcere il naso perché su dieci squadre addirittura sei qualificate più la settima ha messo agli spareggi un totale di 90 partite di tutto il girone per eliminare solamente tre squadre, quindi una formula che ha lasciato un po' perplessi gli addetti ai lavori per dire squadre come Brasile e Argentina, le grandi favorite come sempre di questo girone non dovrebbero avere nessuna difficoltà a qualificarsi e anche altre squadre potrebbero avere vita facile. Passiamo ora al continente africano, 54 le squadre ammesse al girone di qualificazione, 9 si qualificheranno al mondiale più una agli spareggi intercontinentali, i gironi sono 9 e calcolo è facile, la prima di ogni girone si qualificherà al mondiale, mentre per decidere la squadra che si qualificherà agli spareggi intercontinentali verranno scelte le 4 migliori che si classificheranno al secondo posto, quindi 4 su 9. Andiamo a vedere la composizione dei gironi africani, il gruppo A vede la presenza dell'Egitto, del Burkina Faso, della Guinea-Bissau, della Sierra Leone, l'Etiopia e il Djibouti, gruppo B con Senegal, Repubblica Democratica del Congo, Mauritania, Togo, Sudan e Sudan del Sud, gruppo C Nigeria, Sudafrica, Benin, Zimbabwe, Ruanda e Lesoto, gruppo D con Camerun, Capoverde, Angola, Libia, Eswatini e Mauritius, gruppo E con Marocco, Zambia, Congo, Tanzania, Niger e Eritrea, gruppo F con Costa d'Avorio, Gabon, Kenya, Gambia, Burundi e Seychelles, gruppo G Algeria, Guinea, Uganda, Mozambico, Botswana e Somalia, gruppo H Tunisia, Guinea Equatoriale, Namibia, Malawi, Liberia e Sotome, Principe, il gruppo I, Mali, Ghana, Madagascar, Repubblica Centroafricana, Comore e Chad. Questa è la regione di gironi della zona africana. Passiamo all'Asia, 46 le squadre che partecipano alle qualificazioni, qui si è già svolto un primo turno preliminare con le peggiori 20 squadre del ranking asiatico che hanno disputato degli spareggi per eleggere le 10 squadre vincitrici che avrebbero avuto accesso al secondo turno. L'Asia porterà 8 squadre al mondiale più una agli spareggi intercontinentali. Vediamo nel dettaglio la prima fase che ha visto i 10 spareggi con l'Afghanistan che ha eliminato la Mongolia, il Bangladesh che ha avuto la meglio sulle Maldive, Singapore ha eliminato Guam, Yemen ha eliminato lo Sri Lanka, la Birmania ha eliminato Macau, il Pakistan ha avuto la meglio sulla Cambogia, il Taipei cinese ha eliminato Timoreste, l'Indonesia ha avuto la meglio facilmente sul Brunei, Hong Kong ha eliminato il Bhutan e infine il Nepal ha eliminato il Laos. Vediamo quindi la composizione dei gruppi della seconda fase. Sono 9 gruppi che qualificheranno alla terza fase, qui il girone il metodo di qualificazione è un po' più complicato, ci sono varie fasi. Questa seconda fase 9 gruppi da 4 squadre con le prime due che accederanno al girone successivo, il gruppo A vede la presenza di Qatar, India, Kuwait e il qualificato Afghanistan, il gruppo B con il Giappone, Siria, Corea del Nord e Birmania, gruppo C con la Corea del Sud, la Cina, la Thailandia e Singapore, gruppo D Oman, Kyrgyzstan, Malaysia, Malaysia e Cina, Taipei, gruppo E con Iran, Uzbekistan, Turkmenistan e Hong Kong, il gruppo F con Iraq, Vietnam, Filippine e Indonesia, gruppo G, Arabia Saudita, Giordania, Tajikistan e Pakistan, gruppo H, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Yemen e Nepal, il gruppo I, Australia, Palestina, Libano e Bangladesh. Una piccola nota a margine parlando del Pakistan che avendo vinto lo spareggio per accedere alla seconda fase ha addirittura vinto la sua prima partita in assoluto in una qualificazione al mondiale, quindi un evento storico per il Pakistan. Altri continenti invece ancora devono iniziare le loro qualificazioni, cominciare da quello della CONCACAF, il Nord e Centro America che oltre alle tre squadre già messe in quanto paesi organizzatori vedrà altre tre qualificate tra le 32 che partecipano alle qualificazioni più due addirittura agli spagi intercontinentali, uno che tocca ad ogni continente più uno in quanto il continente organizzatore del mondiale. Poi toccherà all'Oceania, la CONCACAF inizierà a marzo del 2024, l'Oceania invece vedrà iniziare le proprie qualificazioni a settembre 2024 con 11 rappresentative presenti, una accederà direttamente al mondiale ed è la prima volta per il continente oceanico grazie all'allargamento a 48 squadre più una che accederà agli spareggi intercontinentali, mentre per l'Europa con tutte le federazioni che parteciperanno al mondiale esclusa ovviamente la Russia per i noti motivi che conoscete tutti, vedrà 16 squadre qualificate in una struttura che vede 12 gironi da 4 o 5 squadre in cui la prima accederà al mondiale mentre tutte le seconde più le 4 migliori della prossima National League che inizierà a settembre del 2024, le 4 migliori non qualificate direttamente accederanno ai playoff, le qualificazioni per l'Europa non inizieranno prima di marzo del 2025. Bene, questo era tutto per quanto riguarda il primo appuntamento con il mondiale 2026, se volete darci consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale, ciao!